Noi siamo contenti perché il Papa ha indicato queste parole anche per noi. Sarebbe un coraggio anche andare avanti, anche lavorare insieme con tutti questi che vivono, il nostro Dioci, anche nella nostra Chiesa. Così noi siamo contenti anche questo lavoro, queste parole anche sarebbe un coraggio per noi tutti fedeli, anche vescovi, anche preti, anche consacrati tutti questi. Daranno la forza anche andare avanti, dialogo, anche vivere in pace, avere una armonia con tutti questi che vivono con noi anche.